Rabbia è quella forma di costruzione di essere in un uovo attorniato sia fisica che psicologica, che fa a grande costretti a stare con la condizione fattigliosa, quello che ti pesa nell'attivare un'emozione di rabbia e la costruzione di qualche cosa che non puoi fare niente. Mi prende come tristezza di non avere speranza di via riuscita. Una totale assenza di energia, difficoltà di concentrazione, della confusione e della voce. Si diventa una perdita di interesse nelle attività quotidiane, sentimento pessimista su tutto.